Tifosi Nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti al centro sportivo Luigi Berlusconi, tredicesima giornata del campionato primavera, si affrontano Monza e Inter. Cocchi, col destro, la lascia sfilare, Stankovic sta arrivando, De Pieri che si inserisce in area di rigore, ecco De Pieri, De Pieri, salva Mazza, grandissima parata del portiere del Monza, Akin Sammiro, Cocchi, Berenbruck, non chiude l'1-2, Berenbruck va al cross, anticipato Zuberec in area, Cocchi, pallone che arriva ancora Berenbruck, non c'è spazio per andare al tiro, appoggia al limite, Stankovic con deviazione, porta in vantaggio l'Inter, il capitano Aleksandar Stankovic 1-0, paga la pazienza che ha avuto l'Inter in questo inizio, altra azione avvolgente, bravo Berenbruck a vedere l'arrivo del suo capitano, tiro deviato che mette fuori causa Mazza, capolupo, cross, cercato Marras, arriva Antunovic, sponda in mezzo e arriva il pareggio del Monza, al minuto 35, segna proprio Antunovic, un po' casualmente, pareggia la squadra bianco-rossa, cross che sembrava completamente fuori misura, invece l'ha tenuto vivo Lupinetti, è completamente dimenticato qui Antunovic, Marras, Akin Sammiro, prova a sradicarla e ce la fa, gran pallone recuperato da Akin Sammiro, si muove Sarra, prova a fare tutto da solo il nigeriano, la due addosso la tiene comunque, tocco per quieto, al limite, può andare anche in porta, si appoggia Stankovic, va a lui in porta, con il destro, e sfiora la doppietta, colpito bene Stankovic, non va fuori di molto, Mazza sembrava comunque sulla traiettoria, tocco per Stankovic, bella palla per Maktasari, in aria calcia con il sinistro, Mazza la lascia lì, ed era fuori gioco, poi il tentativo di tap-in di Di Maggio, grande palla per Marras, che la lascia sfilare, la controlla e va a puntare Alexiu, raddoppiato da Di Maggio, si accentra Marras, calcia con il sinistro Marras, Raimondi, deve metterci i guantoni, Ma non c'è più tempo, arriva un altro 1-1 per l'Inter, con un po' di delusione sul campo del Monza, Grazie. 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 Grazie.